Manila Nazzaro, Stefano Oradei e la colazione a letto. Lei mi vizia, sono un uomo fortunato. L'ex Miss Italia e il ballerino di Ballando con le stelle sono più innamorati che mai e lo dimostrano ogni giorno anche sui social. Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono più innamorati che mai e ogni giorno lo dimostrano con dolci pensieri e tenere dediche sui rispettivi profili Instagram. L'ex Miss Italia e il ballerino di Ballando con le stelle sono una coppia affiatatissima ma anche molto criticata e attaccata dagli hater che credono sia tutto costruito. Comunque sia, i due innamorati cercano di non dare troppo peso alle malelingue e di godersi, invece, la loro felicità. La storia Instagram di Manila Nazzaro Manila Nazzaro è molto attiva sui propri profili social, soprattutto su Instagram dove, ogni giorno, posta video, foto o storie che hanno a che fare con il suo lavoro, le sue vacanze e il suo Stefano Oradei. Proprio questa mattina, sabato 26 agosto, la showgirl ha ripostato una storia in cui il fidanzato la menziona. Il ballerino è felice perché la compagna gli ha portato la colazione a letto e, quindi, scrive, mi vizia, sono un uomo fortunato. Manila, quindi, pubblica nel suo profilo l'immagine e risponde al compagno. Ti meriti tutto questo, aggiungendo un cuore. Le critiche social a Manila Nazzaro Se c'è una lotta che Manila Nazzaro sta cercando di portare avanti sui social, è proprio quella contro gli hater che, negli ultimi tempi, non le danno proprio pace. Gli utenti del web la attaccano perché sostengono che sia stata molto scorretta e addirittura falsa, nei confronti del suo ex compagno Lorenzo Amoruso, con il quale aveva anche partecipato a Temptation Island. Grazie a tutti.